Nasce il distretto reale di Stupinigi per la valorizzazione turistica, culturale, agricola ed enogastronomica del complesso della palazzina di caccia, del parco e delle fertili campagne che la circondano. I comuni di Nichelino, Candiolo, Orbassano, Beinasco, None e Vinovo hanno firmato un accordo che mette in moto una serie di attività condivise e coordinate, a cui partecipano la regione Piemonte, la città metropolitana e la città di Torino, il consorzio residenze reali, l'ente di gestione delle aree protette dei parchi reali e la fondazione Ordine Mauriziano. Il distretto reale Stupinigi sarà il marchio di qualità del territorio e delle attività finalizzate al recupero urbanistico, architettonico, culturale, paesagistico e naturalistico. L'istituzione della denominazione comunale distretto reale Stupinigi consentirà di tutelare e valorizzare le tipicità tradizionali locali, agroalimentari, artigianali, turistico-ricettive, culturali. Di grande importanza la produzione del grano, dalla cui macinazione si ottiene la pregiata farina di Stupinigi, con cui si producono un pane a lievitazione naturale e altri prodotti da forno molto apprezzati dai turisti e dai torinesi. Per quanto riguarda le infrastrutture, saranno completati i lavori della variante di Borgaretto e completati i percorsi ciclabili che raggiungono Stupinigi partendo da Vinova e Orbassano e dal Parco Sangone. Nell'ambito del piano urbano per la mobilità sostenibile, la città metropolitana di Torino progetterà il prolungamento della linea tramviaria 4 dal fondo di corso Unione Sovietica alla palazzina di Caccia. La città metropolitana, come voi sapete, vuole partecipare a tutte quelle che sono le iniziative del territorio. La città metropolitana ha in questo momento un ruolo attivo e quindi da attore non protagonista diventa uno degli attori protagonista di questo accordo. Perché grazie al PUMS, che è il piano urbano della mobilità sostenibile, che sarà approvato nei prossimi giorni dal Consiglio metropolitano, entra a pieno titolo. Come ci entra? Ci entra col fatto che il Ministero ha finanziato quello che è lo studio di fattibilità del prolungamento della linea 4 con ben 100.000 euro e quindi potrà partire questo studio che vedrà nei prossimi anni l'allungamento della linea 4 dall'attuale posizionamento in zona Mirafiori fino a Stupinigi. Questo consentirà ovviamente di raggiungere questo sito con una maggiore facilità tramite i mezzi pubblici. Un progetto di rete in cui i sei comuni del comprensorio di Stupinigi hanno lavorato insieme, camminano insieme ormai da un po' di anni per cercare la valorizzazione di quelle che sono le esperienze anche economiche di produzione agricola del territorio di Stupinigi. In questo la città metropolitana può e deve essere punto di riferimento per favorire questo lavoro di rete e per far sì che venga finanziata la valorizzazione finalmente di questo luogo splendido che è Stupinigi. Si parla peraltro di un circolo virtuoso che comprende il turismo e il turismo agro-gastronomico che può essere fatto in questo luogo. Nasce qui dalla cooperazione fra gli operatori economici in Stupinigiè, l'associazione Stupinigiè, per esempio la farina di Stupinigi è diventata ormai un prodotto d'eccellenza, entrato nel paniere peraltro metropolitano dei prodotti tipici. Quindi partendo da queste produzioni si può e si deve ottenere la valorizzazione del territorio intero creando partecipazione, turismo e valorizzando finalmente questo luogo.